Buonasera e ben ritrovati amici sportivi amanti del calcio femminile insieme quest'oggi allo stadio comunale Città di Arezzo per assistere al quattordicesimo turno del campionato nazionale di Serie B dove l'Arezzo affronterà la Lazio. Per l'Arezzo viene dal turno di settimana scorsa con la sconfitta 3-0 in casa della Roma e quindi a classifica si fa piuttosto pesante in zona recessione dove attualmente è al decimo posto a meno 3 dal Milan Ledis e dal Cesena. Ricordiamo però l'Arezzo di recuperare la gara contro il Milan mentre la Lazio si trova al settimo posto in classifica di Fazio. Li tocco in avanti per Coletta, Orsi nuovamente bravissima a bloccare il centroavanti della Lazio, Razzolini, Di Fiore, Borghesi di prima a cercare il movimento di Simeone. In mezzo a due Simeone prova ad andarsene ancora il taglio di Santoro, Simeone ci prova! Santoro riesce però per uno nulla a recuperare la sfera e allontanarla. In avanti. Orsi prova ad andare in pressing e poi il lancio verticale a cercare il movimento di Coletta. Coletta prova il pallonetto che esce di pochissimo. arriva anche l'occasione per la Lazio con Coletta che raccoglie un lancio verticale da retrovie e per poco non inganna Antonelli. Dunque attenzione alla Lazio che ha fatto vedere tutte le sue qualità in questo lancio verticale. verticale, profondo, Orsi in anticipo, poi attenzione al tocco per Di Fazio. Avanza la Lazio con Di Fazio, uno contro uno contro Orsi, riesce a passare Di Fazio, ancora verso il centro. Di Fazio, il cross al centro dove c'è liberissima di battere la rete, Proietti che porta in vantaggio al 41esimo Lazio. Grande progressione sulla sinistra di Di Fazio con il cross per Proietti. bravissima, altrettanto Coletta a tagliare il verso il primo palo e lasciare lo spazio di battuta al numero 11 della Lazio che sblocca la partita al 41esimo. Dunque cambia il risultato qua al comunale di Città di Arezzo con la Lazio in vantaggio per 1-0 in virtù del gol di Proietti. Fischia l'arbitro, parte con il destro Savini, riesce Antonelli a mettere la palla sopra la traversa con un grandissimo colpo di Reni e rimane comunque in avanti a Lazio che adesso potrà usufruire di un altro calcio d'angolo. Cosimione ha preso la destra a cercare il movimento di Fiore. Di Fiore duella con Di Fazio. Ancora Di Fiore, finta contro finta, può andare al cross e il cross arriva in questo momento centrale per Razzolini! E arriva il pareggio dell'Arezzo con Costanza Razzolini. Al settimo minuto della ripresa, grandissimo il gioco di gambe di Fiore. Il cross basso messo per Razzolini che sottoporta non sbaglia. Freddissima sotto rete e porta l'Arezzo nel risultato di 1-1. Grande merito questa volta del gol a Di Fiore che ha ubriacato Di Fazio sulla destra e poi il cross messo al centro è stato un bacio per Razzolini. Possesso palla, grande, trova un gran pertugio per Moscia. Il tocco per Simeone, posizione regolare. Il cross al centro di Simeone, Di Fiore, colpo di testa! Traversa! Attraversa le D di Fiore, grandissima azione corale dell'Arezzo che ha portato al cross Simeone al colpo di testa, Di Fiore, colpo di testa che per poco non entrava in porta. Parnoffi forse sorpresa. Tocco per Castiello. Castiello verso il centro, fermata da Orsi, lascia proseguire l'arbitro di Gianmarino. Il cross che arriva in questo momento, non arriva per un soffio. Cianci, grandissima occasione per la Lazio con Cianci che non riuscita a battere la rete ha anticipato Mencucci. Ma arriva il triplice fischio, finisce 1-1 la gara fra Arezzo e Lazio. Ricordiamo che Retti nel primo tempo al 41esimo il vantaggio è Lazio con Proietti. Nella ripresa arriva il pareggio al settimo minuto con Razzolini. È stata una partita tosta come ci aspettavamo, abbiamo preparato durante la settimana anche con un po' di infortuni che ci hanno un po' condizionato le ultime scelte che poi si sono dimostrate invece funzionali alla squadra. Mi sono piaciute tutte le ragazze, mi è piaciuta la reazione che hanno avuto. Chiaramente il go è venuto in un momento che secondo noi era anche il nostro momento migliore, però è anche vero che il calcio è questo, quindi ci siamo preparati nel secondo tempo subito per provare a recuperarla. L'abbiamo recuperata e poi con un po' di fatica l'abbiamo portata in fondo. Domenica andiamo in un campo importante che è il campo di Ravenna poi andiamo a fare questo recupero che chiaramente per noi è uno scontro importante. Noi chiaramente cercheremo di conquistare punti in ogni campo partendo già da quello di domenica e poi penseremo alla domenica successiva con il Bela.